Musica Nuova edizione del TG Vallate su Teletruria, buonasera e ben ritrovati subito a Sansepolcro. Torna al lavoro il Consiglio Comunale con la novità legata alla composizione del nuovo gruppo di Forza Italia. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Sansepolcro. La riunione è prevista per le 20.45 di questa sera, lunedì 29 aprile. Il Consiglio Comunale prevede numerosi punti all'ordine del giorno, 22 complessivamente. Dopo l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 12 aprile scorso, ci sono le comunicazioni del Presidente del Consiglio e le comunicazioni della Sindaco, oltre a numerose interrogazioni. Oltre le interrogazioni ci sono delle modifiche e delle approvazioni. Infine c'è al punto 15 la richiesta di deroga al regolamento urbanistico per la realizzazione delle opere edilizie funzionali alla mostra di divina proporzione da allestirsi presso l'orto di San Francesco in Sansepolcro. Il Consiglio Comunale di questa sera sarà anche l'occasione per vedere il nuovo gruppo consigliare di Forza Italia che è passato da uno a due consiglieri. Dopo che nei giorni scorsi Alessandro Bandini, classe 1972, consigliere comunale civico, ha aderito a Forza Italia, portando così il gruppo da uno a due consiglieri. Insieme ad Alessandro Bandini c'è il consigliere comunale Giuliano Del Pia. La Sansepolcro a Castiglion Fiorentino dove è partito il primo step per i lavori di restauro della chiesa di San Filippo, l'amirabile cappella nel centro storico castiglionese chiuso al pubblico da oltre 50 anni. Grazie alla determinazione di Rita Morgan Richardson, di suo marito Tim e dei tanti amici americani e castiglionesi che li hanno supportati, sono stati raccolti fondi necessari per aprire il cantiere e iniziare i primi lavori. Grazie alla collaborazione del Vescovo Andrea Migliavacca e di un meraviglioso e instancabile gruppo di cittadini castiglionesi, è stata concessa l'approvazione ufficiale per iniziare i lavori di restauro della fase 1. Questa prima fase contribuisce a fermare l'ulteriore deterioramento dell'interno della cappella per renderla, per la prima volta dopo decenni, sufficientemente sicura da consentire l'ingresso ai visitatori, spiega appunto Rita Morgan Richardson. Rimaniamo in Val di Chiana, Retina, Mecenate finanzia il restauro di un'opera di Della Robbia, cade a Foiano della Chiana e a restauro concluso Fabrizio Moretti, questo è il nome del finanziatore, ha ricevuto dal sindaco le chiavi della città. Foiano è da sempre legata ad Andrea Della Robbia, lo scultore e ceramista fiorentino vissuto tra il XV e il XVI secolo. Alcune opere dell'artista fanno bella mostra di sé nelle chiese del luogo. Una di queste è la Madonna della Cintola risalente al 1502 e custodita nella collegiata di San Martino e Leonardo. L'opera è stata interamente restaurata e la cerimonia che osserviamo si riferisce alla conclusione del restauro e alla sua riconsegna. L'intervento è stato finanziato da Fabrizio Moretti, mercante d'arte internazionale, ma da sempre legato a Foiano, luogo di origine del padre Alfredo. Alla cerimonia presenti le autorità locali, docenti universitari, cultori d'arte e semplici cittadini. La Madonna della Cintola è ritenuta una delle opere più straordinarie custodite a Foiano, luogo di nascita del padre di Fabrizio e per il quale lui stesso ha un legame molto profondo. Moretti, per il gesto in favore della comunità foianese, ha ricevuto le chiavi della città, un momento simbolico e di riconoscenza. Diventa quindi visibile ai visitatori nello splendore di come e quando il capolavoro uscì dalla bottega del maestro. In occasione della celebrazione del restauro è stato inoltre presentato il volume Andrea della Robbia, storia e restauro della Madonna della Cintola di Foiano. Il volume contiene un saggio di Tommaso Mozzati, professore all'Università di Perugia, e un testo di Nicoletta Marco Longo e Angela Tascioni, dello studio Ardiglione di Firenze che ha curato il restauro dell'opera, sotto la direzione di Jane Donnini, funzionario della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Siena, Arezzo e Grosseto. Sarà inaugurato il prossimo 5 maggio lo spazio dedicato a Giuliano Santarelli, storico parrucchiere di Arezzo, nato a Pietraviva, che ha conosciuto nella sua carriera centinaia di personaggi del mondo dello spettacolo ed è stato anche ricevuto dalla regina Elisabetta. Una vita passata tra forbici e pettini, una vita che vuole essere ricordata con un museo nel suo paese d'origine. Giuliano Santarelli, storico parrucchiere di Ambra, ha visto nella sua carriera le teste di tutti i grandi del mondo dello spettacolo, oltre a tantissima gente comune. Un uomo che ha insegnato l'arte del capello, ma l'ha anche tramandata con le sue idee e i suoi trofei vinti. Il 5 maggio sarà inaugurato lo spazio dedicato ai suoi strumenti di lavoro nel centro di Ambra, attestati e tante foto con i personaggi che ha preparato per spettacoli o sfilate. Giuliano ha mosso i suoi primi passi a Pietraviva, proprio dove è nato, ha mosso appunto i primi passi insieme al babbo e al fratello, dando proprio i primi colpi di forbice, fino poi arrivare al 1963 dove ha aperto il suo primo salone ad Arezzo. Ha partecipato per diversi anni a Castrocaro, è stato in giuria per Miss Italia, è stato un po' il suo trampolino di lancio. Sotto le mani di Giuliano sono passati praticamente tutti, Gaber, Giovanotti, Morandi, Venditti, Battisti, Alberto Sordi, solo per citarne alcuni. Negli anni 60 fu anche ricevuto dall'allora presidente francese De Gaulle. La memoria di questo personaggio del passato vuole rimanere nel presente anche grazie alla moglie che il 5 maggio, oltre all'inaugurazione dello spazio che si trova di fronte alla piazza di Ambra, donerà un mezzo alla misericordia Val d'Ambra, in memoria del marito. Negli anni è il terzo mezzo che la signora Carla, in memoria di Giuliano, dona alla misericordia proprio perché lei ha sempre detto che era un po' il sogno anche di Giuliano. Per l'ennesima volta ci ha stupito perché lei è una persona a cui noi non chiediamo niente e lei che alza il telefono ti chiama e ti dice guarda Luciano ho fatto questo. Dalle assemblee ai presidi per finire ad una protesta sul Prato Magno. Tutto questo per dire no all'asfaltatura di 12 chilometri della strada bianca di Crinale. I sit-in da Castel San Nicolò a Reggello in Val d'Arno coinvolgono varie associazioni. Il comitato Prato Magno senza asfalto, in attesa della manifestazione dell'11 di maggio quando in questa montagna tra Casentino e Val d'Arno, partendo dall'incrocio con bagni di cetica, si svilupperà un trekking di protesta proprio su quel crinale che la regione toscana vorrebbe asfaltare, ha tenuto un sit-in a Castel San Nicolò, mentre un altro presidio è fissato per sabato 4 maggio a Reggello. Abbiamo deciso di convocare questo presidio sotto al comune di Castel San Nicolò, Samastrada. Era necessario portare comunque anche la protesta laddove vengono prese le decisioni rispetto a questo intervento di asfaltatura del Prato Magno. Secondo quanto sappiamo i lavori di asfaltatura stanno vedendo un'accelerazione. Siamo lieti di essere qui in mezzo alla piazza, davanti al comune, proprio perché vogliamo incontrare la gente, incontrare gli abitanti che spesso ci siamo resi conto di essere ancora ignari di questa situazione. Tutto questo in preparazione della camminata manifestazione che faremo il prossimo 11 maggio sulla stessa strada di Crinale per proprio manifestare la nostra contrarietà a questo progetto. La strada naturalmente necessita di una manutenzione ma può essere mantenuta in buone condizioni con una spesa limitata nello stato attuale di strada bianca, strada sterrata. La festa del Tulipano è un'occasione per conoscere meglio tutto il comprensorio del lago Trasimeno. In questi giorni sono arrivati davvero tanti turisti da tutta Italia. Valica sempre più i confini regionali la festa del Tulipano, il benvenuto alla stagione primaverile di Castiglione del Lago. Complici anche il meteo, i turisti hanno letteralmente preso d'assalto uno dei borghi più belli d'Italia, apprezzandolo. Che ne pensate di questi carri? È meraviglioso, è la prima volta che veniamo, abbiamo visto su internet, è un bello spettacolo. Poi è interessante come preparano i carri, è meraviglioso. La giornata poi ci ha accompagnato. Da dove venite? Da Formia, Golfo di Gaeta. Ti piacciono questi carri? Sì. Qual è il tuo preferito? Questo. Perché ti piace più questo? Perché mi piace per i colori. Ci vuoi tornare il prossimo anno? Sì. E del lago che ci dice? Stupendo, stupendo. Noi non siamo abituati, siamo abituati più al mare, però fa una bellissima impressione. L'abbiamo visto da su, dalla rocca, bello, molto bello. Un territorio favoloso. E con la festa del Tulipano termina anche questa edizione del Tg Vallate di Teletruria. A tutti voi buon proseguimento sulla nostra emittente.